I'll be chasing Kyla Ecco, spero che avete messo like, se non avete messo like mettetelo immediatamente, se no per le persone che non hanno messo like il visuale sarà sempre al contrario Ora cominciamo con il video Ed ecco qua, l'applicazione in questione che uso per editare i video è Vegas Pro 15 Mi sto trovando veramente bene da quando ho l'applicazione, non è che sono così tanto bravo, però le cose principali le riesco a fare insomma Come ad esempio, quando devo mettere delle transizioni le riesco a fare, ad esempio con un video open Ad esempio, non è un video tutorial questo qua, vi faccio vedere semplicemente tipo questo qua, che è un video vecchio insomma Sì, qua, ok, questo qua è un video che avevo messo tipo un mese fa, ecco Tipo così, magari riesco tipo a far sta roba come penso che tutti quanti riescono a fare Tipo oscurare, come potete vedere si vede così Poi riesco ad esempio a mettere la visuale al contrario e poi tagliare quella roba lì, le riesco a fare tranquillamente Altre cose devo ancora imparare meglio Comunque spero che vi stiano piacendo i video Da quando insomma riesco ad editare con il computer E a fare con macchine fotografiche e con attrezzature migliori di quando utilizzavo il telefono Ecco, e l'applicazione che utilizzo è questa qua La seconda applicazione che utilizzo, sito che utilizzo per editare Si chiama Canva Per chi non lo conoscesse, Canva è un sito dove si utilizza sia gratis che a pagamento Ma io principalmente gratuito, cioè solo gratuito utilizzo Dove si possono creare loghi per YouTube ad esempio Poster, vari poster, video Post di Instagram E qua sono tutti i miei progetti che avevo, che ho fatto in precedenza per quegli altri video Come potete vedere Eccoli qua Sono molto intuitivi e facili da fare Video qua Miniatura YouTube Mi è venuta per primo perché lo faccio sempre 1270x720 Qua poi si può creare sia la... Si può creare la propria miniatura Ma io ne l'ho mai fatto Di solito prendo Quelle prefatte E... E le modifico sopra Come ha... Ad esempio ho preso questa qua Come potete vedere Tutta quanta personalizzabile Si preme sopra ad esempio Si fa così Ecco E si può scrivere qualcosa sopra In vario formato Colore Potete vedere colore qua Poi andate qua ad esempio e scrivete in rosso Andate magari qua e scrivete in rosa Tipo qua Insomma con tanti... Con tutti i colori che volete La versione completamente gratuita è questa qua In cui si può scrivere tutto quello che si vuole Alcuni wallpuppid Wallpaper Come si chiamano E... Sono gratuiti Cioè... Non serve nemmeno scaricarli Perché ce li hai qua Li editi E poi li scarichi A me con il tasto scarica non funziona Quindi ogni volta Non vedete voi Devo fare wind più g E faccio lo screen E poi ritaglio Perché se premo scarica direttamente da sopra Mi fa un abbonamento E quindi non ho proprio voglia Ecco Quindi utilizzo così io Ecco non è... Non c'è niente di can... Qualcun per tradere il filtro Per cambiare magari il colore Dell'effetto Quello retro E robe così Poi ci sono varie foto preimpostate O quelle che si ha... O quelle che si ha nel proprio computer Si vuole mettere per qualche copertina Questo video vi sia piaciuto Come sempre Instagram LucaTVShow Facebook Luca Giusto 10 like Prossimo video Arrivederci a tutti E al prossimo video 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 E al prossimo video